Auto che sfrecciano sulla pista ciclabile della costa dei Trabocchi, una dietro l'altra, accade nel territorio comunale di Vasto, dove il titolare dell'azienda Capofila Dellati, che sta realizzando l'infrastruttura, ha presentato nuove denunce ai carabinieri. Ormai ho perso il conto, dice l'ingegnere Paolo Primavera al TG Max. Dall'inizio dell'estate è un continuo di vetture che parcheggiano lungo la Via Verde. È violazione di cantiere, sottolinea Primavera, che esasperato dai ripetuti atti vandalici ha fatto posizionare Bloch e New Jersey in calcestruzzo. Anche la recente resina di colore verde è stata rimediabilmente rovinata, addirittura con il passaggio dei trattori, e adesso va rifatta da capo. Segno di comportamenti incivili che si registrano soprattutto al sud della costa dei Trabocchi, da Fossacesi a Torino di Sangro e Vasto. Questa, dice Amareggiato Primavera, non è la terza corsia dell'autostrada A14. Purtroppo sì, io voglio sollecitare un po' l'opinione pubblica, quindi i comuni del territorio, la stessa provincia, regione, affinché facciano una campagna di sensibilizzazione, che quella è un'arteria importantissima e va tutelata sotto tutti gli aspetti. Anche perché è patrimonio pubblico, quindi non vedo la ragione del rambaggio selvaggio da parte di molti utenti che rimuovono barriere, blocchi, danneggiano la pista per il solo fine di poter parcheggiare la macchina sulla pista ciclabile. Questo è veramente un segno di inciviltà, che questa regione non merita, non la meritiamo noi, tutti quelli che si stanno impegnando affinché venga realizzata quest'opera nel migliore dei modi. E quindi faccio un ultimo appello, perché veramente siamo un po' stufi di questa situazione, perché tra l'altro abbiamo avviato una serie di esposti, denunce alle autorità competenti. Spero che qualcuno si muova affinché venga tutelata una delle più importanti infrastrutture della regione Abruzzo. Grazie.